Nome Samantha Teresa Età 32 39 Professione Segretaria Broker, ovvero consulente esterna per le aziende. A chi si affida per la cura della sua estetica? Io scelgo persone che lavorano in casa per risparmiare, tanto cosa può accadermi? Personalmente mi affido ai professionisti del settore, anche per evitare possibili danni. Grazie per la visione!